Ciao a tutti, sono Cisco, insieme a me qui c'è Giovanni Rubiani e a Berto Cotica siamo i dinosauri e questa è Cosa Conta da sempre c'è un dilemma di portata epocale sapere in fondo cos'è giusto mettersi a cercare se è meglio un cuore immacolato una mazzetta un onesto poveraccio un ricco figlio di mignotta e poi decidere se l'anima che abbiamo sia giusto lucidarla per tenerla sempre stretta o invece se sia meglio accomodarsi sul mercato e venderla al demonio contrattando un certo prezzo dimmi tu dimmi dimmi cosa conta dimmi dimmi cosa conta dimmi cosa vale dimmi cosa vale di più il governo lotta l'uovo la balotta nuovo partito nuovo nemico dieta vegana pane e salame un uovo un uovo un uovo mito dimmi cosa conta cosa conta dimmi cosa conta cosa conta e quindi rimane questa amletica incertezza se vale meno l'operaio della maglietta se meglio un uovo su gigante da sfoggiare o un pezzo d'amazzonia un cielo azzurro da salvare un balzo verso l'infinito un tasso fisso e garantito un'avventura un posto sicuro il sentimento o l'investimento dimmi cosa conta dimmi dimmi cosa conta dimmi cosa vale dimmi cosa vale di più dimmi cosa conta dimmi dimmi cosa conta dimmi cosa vale dimmi cosa vale di più il governo lotta l'uovo la balotta nuovo partito nuovo vestito dieta vegana pane e salame un uovo shop un uovo mito dimmi cosa conta dimmi cosa conta dimmi cosa conta cosa conta la lotta scudetto il pettegolezzo l'ultimo oroscopo che hai letto la rivolta un risvoltino prendo un cane o faccio un bambino la moda estate inverno la borsa al padre eterno moglie amanti droghe assanti cosa ti fa andare avanti dimmi cosa conta cosa conta dimmi cosa conta cosa conta dimmi cosa conta dimmi cosa conta grazie 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 grazie